rispetti gli impegni. Partiamo da questa festa, quanto è importante esserci questa sera? È importante che tutta l'Italia è piena di feste belle come questa di Pesaro, perché è qua che anche nella battuta, nel richiamo, nello scherzo, nella critica, nell'urlata ritrovi quello che deve essere la politica, servizio alle persone, il servizio quando si porta a tavola un piatto di pasta e il servizio quando si ascolta perché bisogna fare del bene. E poi il tema di questa sera, del dibattito di questa sera, come si sta comportando l'opposizione attualmente? È troppo divisa, è troppo divisa e ci sono dei segnali positivi come la scelta di sostenere insieme il salario minimo che dimostra che si può fare. Essere alleati è una cosa, essere uniti è un'altra cosa, ma non vuol dire essere la stessa cosa, si possono trovare delle questioni qualificanti e fare delle battaglie insieme. Io credo che l'Italia dal centro-sinistra si aspetta questo e non dimentichiamoci mai una cosa, che la destra ha la maggioranza dei parlamentari, ma è una minoranza degli elettori. Le forze del centro-sinistra sono una minoranza dei parlamentari, ma sono la maggioranza del paese. Questo dà un compito all'opposizione. Domanda forse banale, oggi esiste una reale alternativa al governo Meloni? La stiamo costruendo, la stiamo costruendo. C'è sul tappeto i danni che sta facendo il governo Meloni all'Italia, perché a parte le parole, quello che io vedo è una assoluta inesistenza della voglia di combattere le disuguaglianze tra le persone e questo è un fatto drammatico, perché chi ha bisogno è sempre solo in questo paese, anche con la Meloni. Qual è attualmente la situazione nel PD? Io credo che con le elezioni di Last Line si sia riaperto un canale di dialogo con l'Italia. Tante persone che avevano perso la fiducia riprendono a guardare a questa forza con speranza, ma soprattutto io dico che è l'ora di rimboccarsi le maniche e ricostruire un'alternativa in questo paese. Quale sarà il futuro di Nicola Zingaretti? Faccio il parlamentare, fado alle feste dell'unità, do una mano, discuto, lotto per delle battaglie, adesso a sostegno di una battaglia per fermare un emendamento sceno della destra che vuole mettere il centro sperimentale di cinematografia italiano sotto il controllo del governo. Tante cose utili da fare.